ciao benvenuto nel mio canale youtube io sono biker sul mio canale puoi trovare più o meno 150 video che trattano di ciclismo creato appositamente qualche playlist dove potrai farti una piccola panoramica di quello che puoi trovare sul video ti lascio tutto in descrizione a questo punto non ti resta che guardare i video iscriverti al canale e se ti piace lasciarmi like ciao ciao